Fare polemica è diventato facile a maggior ragione quando si verifica un evento drammatico della portata di un terremoto e i webbeti Enrico Mentana-Doget escono fuori come funghi. Amatrice Ascoli e le cittadine nei dintorni sono diventati il palcoscenico del mondo in questi giorni e gli attori intervenuti nella tragedia che sta vivendo il centro Italia sono stati parecchi. Daniela Martani e il selfie di Simone Coccia con l'aiutei sono solo alcune delle performance inscenate durante lo spettacolo aspramente criticate dal pubblico non pagante né appagato dal dolore e dalla profonda sofferenza mostrata da quelle che stanno diventando semplici comparse colpite tuttavia realmente dal sisma del 24 agosto. A finire nel tritacarne mediatico e dato il ruolo di spicco non poteva essere altrimenti anche il presidente del Consiglio Matteo Renzi in prima linea a sopportare sindaci e cittadini delle zone distrutte. Sul web è rimbalzato uno scatto che mostra il premier alle prese con un telefonino invisibile sotto la cravatta durante le esegue con accanto la moglie in lacrime e le altre cariche dello Stato. È vero, si tratta di un fotovontaggio? È l'ennesima strumentalizzazione di un'immagine? Non sappiamo né vogliamo indagare oltre per buonsenso e decenza ma riportiamo le parole del diretto interessato su quella che ad una prima occhiata sembrerebbe una bufala. Nella consueta e-news Renzi ha chiarito la rete, meraviglioso strumento di conoscenza e libertà, è piena di insidie, di seminatori di odio e di bugie. Nella consueta Grazie.